Ciao a tutti ragazzi, abbiamo visto un nuovo video, oggi siamo sul mio telefono, non sembra che scelgo sono E allora, oggi questo è un video tutorial come fare video su YouTube E per fare video su YouTube bisogna prima andare su Play Store Ok, siamo dentro Play Store e per fare i video bisogna scrivere qua su Play Store E poi ci sono anche un sacco di tipi tipo Mobizen for Samsung, for wireless, for Android Un sacco di Mobizen, ma voi scrivete solamente Mobizen, mi comparirà il vostro Poi, una volta di installare Mobizen, vi devo installare anche Mobizen Mirror Link Cioè che ti migliora Mobizen, ti può fare più veloce, più resistente, ti migliora un sacco di cose Ma voi dovete cliccare l'app e mettere installa, perché così lo estenderete Poi, poi non dovete cliccare apri, perché sapete che non è un'app in cui di fare in Italia E' solo per fare video su YouTube, perciò esci fuori, clicchi il... clicchi Mobizen e ti comparirà questo che ho qua, questa cosa qua E' rifatto E poi avete installato Mobizen Poi fate i video su YouTube, quello che volete, i blog, i video, i giochi, quello che volete Bene, spero che questo video tutorial vi sia piaciuto Vi auguro una buona giornata e ciao